Un incontro breve ma significativo. Papa Francesco ha ricevuto in udienza le religiose carmelitane da Betlemme e dal Medio Oriente e le suore del Rosario a Roma per la canonizzazione di Miriam di Gesù Crocifisso e Alfonsina Daniel Gattas e a loro ha chiesto di pregare per la Terra Santa perché finisca questa guerra interminabile e ci sia la pace fra i popoli e di pregare per i cristiani perseguitati. Sono cacciati via dalle case, dalla loro terra, detto con una persecuzione, un terrorismo che potremmo definire fatto con i guanti bianchi.